E quindi hanno hackerato i Green Pass, vero? Beh, strano che ci siano in giro tutta una serie di Green Pass che effettivamente funzionano assegnati a nomi come Adolf Hitler, Mickey Mouse, Yo Mama Joe e tanti tanti altri. Tra l'altro Spongebob, Squarepant, tutti validi e che funzionano. Quindi hanno rubato le chiavi per falsificare i Green Pass? Probabilmente no e forse ho una soluzione più che probabile, ma lo vediamo dopo la sigla raccontando esattamente che cosa è successo. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Sono un paio di giorni in cui online c'è un po' di putiferio sul Green Pass. Parte più o meno tutto da qui quando Reverse Brain inizia a dire attenzione che ci sono in giro dei Green Pass validi che scansionano e che sono riconosciuti come validi di Adolf Hitler. Ce ne sono due tra l'altro, uno scritto maiuscolo, uno scritto minuscolo. Se volete andare a vedere tutti i risultati del Green Pass vi lascio qui sopra direttamente il QR code per vedere l'indirizzo dove andare a recuperarli. Quindi, dicevo, si parte tutto da qui, ma non è in realtà la fine di tutto questo. Si inizia a vociferare che le chiavi per generare i Green Pass siano state compromesse, che non è una cosa da poco. Se compromettiamo infatti le chiavi, quello che abbiamo è qualcosa di particolarmente poco carino. Poco carino significa che qualcuno potrebbe aver trovato il modo di crearli a suo piacimento, tutti quelli che vuole. Sarebbe un problema enorme? Sì e no. No, nel senso che il meccanismo di creazione dei Green Pass prevede la possibilità di revocare alcune chiavi, solo che le chiavi sono in genere nazionali, e quindi vorrebbe dire revocare tutti i Green Pass che sono stati fatti da quella nazione. Ovviamente con il problema, non indifferente, di doverli riemettere poi tutti. Quindi vorrebbe dire che la signora Maria, che ha il Green Pass francese, che l'aveva, a un certo punto si trova il suo Green Pass che non funziona più, deve andare online sul portale o nella farmacia di Torna e farsene stampare una versione nuova. Le ore passano e tante altre persone raccontano. Raccontano che cosa? Beh, raccontano ad esempio che su Ride Forum tanta gente inizia a vendere questi Green Pass e a dire di avere le chiavi. Ci sono tutta una serie di nuovi certificati creati di esempio con nomi e cognomi anche di fantasia. Sembra, mettiamola così, sembra abbastanza certo il fatto che qualcosa sicuramente è avvenuto, cioè le chiavi sono state in qualche modo abusate. Già perché sono due le possibilità. La prima è che le chiavi siano state rubate e che qualcuno emetta quei certificati. La seconda è un po' più semplice. Qualcuno ha trovato il modo di abusare di quelle chiavi. Può essere un medico, può essere qualcuno di compiacente che usa il sistema reale per creare questi contenuti. È un po' strano ovviamente il fatto che possa crearli un po' come vuole. Tanti hanno fatto la raccolta di come, di dove siamo arrivati e di che cosa è successo. Disinformatico fa una bellissima cronistoria di quanto accaduto. Vi lascio anche qui il QR code per andare a vedere il suo post. Racconta davvero tanto della situazione che la sta tenendo aggiornata mano a mano. La differenza forse o magari il punto di svolta arriva quando appaiono su 4chan alcune immagini. Le immagini che io ho trovato online, condivise da Andrea Santianello, mostrano che cosa? Mostrano un qualche tipo di portale quasi ufficiale che mostra questi Green Pass validi. E forse lì è un attimino il punto di svolta. Perché è il punto di svolta? Il rasoio di Ockham ci dice che tra più diverse soluzioni forse quella più semplice è quella più corretta. E la soluzione più semplice qui è che ci sia da qualche parte uno o più portali a cui qualcuno ha avuto accesso. Il portale che cosa potrebbe essere? Potrebbe essere in realtà molto più semplice di quello che pensiamo. Già perché esiste un servizio che viene anche dato di demo che si può attivare che si chiama, lo rimetto qui, DGCA Insurance Web, cioè il servizio di emissione dei Digital Certificate, che è parte direttamente, è un portale web che è parte diretto del repository dei codici sorgenti, che ha condiviso l'Unione Europea, e c'è un portale che è incredibilmente simile a quelle immagini che abbiamo visto condivise. Da qui però arriva un secondo problema. Quale di queste è stato aperto? In realtà chiunque abbia delle chiavi, cioè qualunque governo nazionale, o chiunque ha avuto in mano le chiavi anche per testing, può lanciare questa applicazione. Che cosa fa questa applicazione? Serve per testare, per emettere certificati verdi e per testarlo. Per testarlo cosa vuol dire? Che andando a esaminare molto attentamente il codice sorgente di questa applicazione, scopriamo una falla enorme, titanica, secondo me almeno. Scopriamo che è possibile tranquillamente scrivere dei dati, se si ha accesso ai certificati, quindi se si è qualcuno che ha un portale web tra quelli che sono messi online, con installato questo, di uno qualunque degli stati, è possibile fare una cosa. È possibile mettere dei dati e fare una preview senza salvarlo, e quella preview è un certificato valido. E allora secondo me, però ancora, sono mie ipotesi, per adesso da questo momento in poi sono mie ipotesi, nessuno ha rubato delle chiavi, nessuno ha trovato medici compiacenti o meglio, non è necessario che sia un medico compiacente che crea un finto green pass, semplicemente qualcuno ha avuto accesso al portale, e ci saranno centinaia, migliaia di persone che hanno accesso a questo portale, per creare i digital certificate, e non ha fatto nient'altro che fare una preview. Ha messo dei dati spuri, ha fatto semplicemente un check per vedere, ok, questa cosa può funzionare, se no, e ha cancellato. Non ha salvato nulla, non c'è traccia di questo all'interno degli archivi ufficiali, ma la preview genera un codice valido, e quindi quel codice può essere condiviso. Il che, se fosse davvero così, aumenta e complica di tanto il problema. Perché? Perché mentre è possibile revocare tutta una serie di contenuti, cioè di certificati, e quindi è possibile revocare la chiave italiana, e far sparire tutti i green pass italiani, senza grossi problemi, cioè far sparire, invalidarli, la stessa cosa non è vero per i singoli. L'avevamo già detto, avevo fatto un video che parlava di questa cosa, raccontando come non fosse possibile revocare dei green pass che erano stati fatti accidentalmente. Almeno non è possibile in alcuni stati, perché nel frattempo che cosa è successo? È successo che alcuni altri stati consentono la revoca. In particolare l'applicazione francese, e qui ne trovate una infografica che ho trovato online, l'applicazione francese ti dice, attenzione, questo certificato è stato riportato come fraudolento. È successo a valle a valle della diffusione del green pass di Macron, e con un decreto legislativo, l'equivalente in Francia, è stata implementata la possibilità di avere le liste di revoca. Non ci sono in Italia, ci sono in Francia, e in Svizzera c'è una sorta di warning che ti dice, attenzione, valido solo con il documento di regittimazione. Quindi, paradossalmente, se si sono rotti la chiave, è un'enorme rottura di scatole, perché la chiave, ad esempio, francese, deve essere revocata, e con la chiave francese tutti i green pass fatti con quella chiave devono essere ricreati, però risolve il problema. Se invece è fatto in questo modo, cioè semplicemente con la preview, come viene in mente a me, beh, probabilmente non è possibile risolverlo, a meno per ogni stato, di metterli. Uno, trovarli, perché non è possibile capire a priori quali di questi sono falsi. due, mettere una pezza e creare delle liste di revoca, cosa che in Italia, ad esempio, non era stata ipotizzata all'interno dell'applicazione. Se davvero, se davvero l'applicazione è stata generata in quel modo, significa una enorme, sterminata vulnerabilità di sicurezza che è stata introdotta nel codice. Una falla a cielo aperto che nessuno ha pensato e che può davvero dare grossi, grossi, grossi problemi. A che cosa? Beh, all'intera esistenza del tutto. Perché se io posso creare facilmente con centinaia di persone che hanno accesso a quell'applicativo, senza che ne esista traccia, perché non viene salvata l'informazione, delle preview di quel contenuto, beh, allora sì, è un grosso, grosso problema. Perché chissà quante centinaia o migliaia di finti Green Pass veri in realtà sono stati generati. Da vedere meglio l'ipotesi, magari nel prossimo ora lo scopriremo, ricordatevi che questa è una mia ipotesi. Quello che sappiamo adesso è che ritengo improbabile che le chiavi siano fuoriuscite totalmente, ritengo più probabile che qualcuno abbia abusato di quelle chiavi utilizzando il sistema. con medici compiacenti, con strutture compiacenti o anche solo con questa modalità che a me è venuta in mente. E voi? Raccontatemi che cosa ne pensate, se pensate che sia corretta o meno. Nel caso dovesse conferparsi questa ipotesi lo troverete online, non c'è bisogno che ve lo dica io. Io sono Matteo Flora, mi occupo di sicurezza telematica per lavoro, trovate un po' delle cose che faccio di lì con le società. Mentre invece quasi tutti i giorni con Ciao Internet vi racconto algoritmi e regole che governano macchine ed umani. E, come sempre, anche questa volta trovate dove iscrivervi il canale Telegram e il corso della newsletter e... e state parati.